Eccoci e bentornati sul mio canale, nuovo video informativo giornaliero dedicato a Fortnite. Oggi parleremo di tutte le novità in arrivo con la patch 5.40 e dei nuovi contenuti all'interno del negozio di oggetti. Come sempre per supportare questo nuovo appuntamento da voi richiesto a gran voce arriviamo a 500 mi piace. Vi aspetto poi più tardi alle 12.30 con un video informativo su Black Ops 4 quindi non perdetevi l'appuntamento prima di pranzo. Partiamo subito con la novità più importante arrivata nella notte, nuovi oggetti in evidenza all'interno del negozio appunto di oggetti. Troveremo praticamente due nuovi costumi, uno femminile, uno maschile, fiore del segno e spaziale e ovviamente due nuovi oggetti da utilizzare. Il freak volante quindi il deltaplano e poi soprattutto il ritmo di tamburi ovviamente uno strumento di raccolta. I costumi stanno a 1500 mentre il deltaplano 800 e l'oggetto ovviamente il ritmo di tamburi a 500. Sono disponibili soltanto per pochissime ore nel momento in cui sto registrando mi dice oggetti in evidenza per 43 ore. Come sappiamo la prossima settimana arriveranno nuovi contenuti come la wildcard outfit, la nuova modalità gateway fuga e poi ovviamente le nuove sfide ad alto rischio. Bene vi faccio vedere nuove immagini relative appunto a questa nuova wildcard. Vi faccio vedere le personalizzazioni che si possono fare ovviamente con i quattro semi e altri oggetti appunto di questa nuova wildcard che poi analizzeremo bene nel dettaglio questa settimana. Settimana molto interessante perché ci sarà il rilascio della patch 5.40. Tante le novità che arriveranno. La più importante è la rimozione della pistola, della revolver. Come abbiamo visto in passato quando sono stati tolti i missili teleguidati. A quanto pare la revolver dovrebbe tornare nella stagione successiva. Altra grande novità di questo aggiornamento arriveranno i danni da tempesta. Avete capito bene quando si ridurrà ovviamente la tempesta non soltanto ci saranno danni ai giocatori ma anche alle strutture. Secondo quanto riportato dall'Epic Games tutte le strutture costruite dai giocatori vicino al bordo della tempesta 7, 8 e 9 saranno completamente distrutte. Questa cosa è stata messa soprattutto per migliorare e rendere il gameplay più tattico e dinamico soprattutto nelle fasi finali della partita. Non è finita qui perché ci sono anche novità per quanto riguarda gli esplosivi a distanza dove ci sarà l'aggiunta anche del livello epico di colore viola. Per quanto riguarda le granate ballerine ne potremo raccogliere due anziché una. Ci sarà una nuova consumabile che dovrebbe rendere il nostro giocatore più veloce. E soprattutto novità per quanto riguarda la città come la costruzione terminata della Tiles Tower. Ci sarà la rarità delle pistole che è cambiata da leggendaria a rara. La pistola silenziata è cambiata da leggendaria a rara. Una nuova icona interfaccia accanto ai nomi dei giocatori che utilizzano il microfono. L'interfaccia utente si aggiungerà sul colore accanto ai nomi dei giocatori. Ed inoltre potremmo finalmente portarci tre pozioni di scudo grandi anziché due. Quindi molte le novità che vedremo all'interno di questa patch 5.40. Torneremo sull'argomento con tutto il changelog completo. Ma intanto questi sono i primi dettagli e le novità. Arrivate oggi su Fortnite qui sotto nei commenti. Fatemi sapere che cosa ne pensate. Arriviamo a 500 di piace per il prossimo appuntamento. E noi ci vediamo con tanti nuovi video.